Siamo con il trader Antonio Cioli Pugliani. Antonio, so che da tempo tu hai una grandissima esperienza sui mercati. Qual è un'operazione che tu ricordi con maggior piacere? È dal 1985 che opero direttamente sui mercati, per cui sono 30 anni. Poi come tendenza sono uno scal per cui faccio azioni abbastanza veloci che possono durare meno di un'ora in genere. Però ogni tanto diversifico e ho qualche investimento. Di la verità quelle che ricordo meglio sono quelle più dolorose e quelle su cui ho perso. Però la domanda fortunatamente dell'altro tipo è una domanda nella quale mi chiedi qual è la più favorevole. E' una recente, è proprio l'acquisto di un certificato sul Monte dei Paschi di Siena, un certificato che era però reversa, ovvero si guadagnava con il calare del prezzo. Per cui era una sorta di short con l'acquisto di un certificato. Prima hai parlato di diversificare, so che da qualche tempo stai lavorando anche sui certificates. Ce ne parli un po' e ci spieghi anche il perché di questa scelta? Beh, in questo momento particolare che stiamo vivendo di politica monetaria sperimentale nella quale improvvisamente i rendimenti sui classici obbligazioni sono di fatto a zero o presso a poco sullo zero, l'esigenza di poter parcheggiare la liquidità nella ricerca di qualche estrarrendimento, nella mia ottica di investitore che crede non più a un particolare incremento ulteriore delle quotazioni di borsa ma non crede assolutamente che possano crollare di colpo, i certificati, specialmente quelli bonus cap o top bonus, ovvero che offrono la possibilità di un premio al non arrivare al tocco di una barriera, possono essere interessanti per avere un extra rendimento rispetto a quello che si ottiene mediante i classici bond che di fatto sono a rendimento se non negativo prossimo allo zero. Qualche progetto per il futuro? Hai qualche anticipazione da poterci dare? Progetti personali? Io lavoro proprio come trader privato per cui di poter continuare come sto andando ma non ho funzioni al di fuori che quella di me stesso, per cui che la mia famiglia vada bene e stia bene qui a fare quello che faccio.